Oltre ogni ostacolo. Questo è il nome, il titolo della giornata di studio organizzata dall'Associazione Lotta alla Talassemia al Terino Vullo di Ferrara nell'Aula Magna dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara a Cona. Un appuntamento quello di sabato 3 settembre atteso non solo dagli addetti ai lavori, quindi medici, clinici, ricercatori che sono arrivati non solo da Ferrara e dalle miglia romagna ma da tutta Italia ma soprattutto dalle famiglie dei pazienti talassemici che durante questa giornata possono fare una fotografia dello stato attuale di tutto ciò che concerne questa patologia. Il Day Hospital Talassemici del Sant'Anna è infatti hub regionale, punto di riferimento per l'intera Emilia Romagna per questa patologia, una tradizione e una competenza che però è uscita dai confini provinciali e regionali e ha portato l'eccellenza alla qualità del DHT, dei suoi professionisti come vedremo ma anche dell'Associazione Alterino Vullo di Ferrara dicevamo fuori dai confini regionali arrivando su tutto il territorio nazionale ma anche internazionale. Oltre a ogni ostacolo, questo è il titolo di questa giornata studi che l'Alterino Vullo di Ferrara ha organizzato qua a Cona, è un appuntamento che è atteso da tutte le famiglie non solo di Ferrara dell'Emilia Romagna ma dall'intera Italia ed è un appuntamento costante dove comunque la presenza e la conferma che Ferrara è un hub significativo. Sì è così, è un hub significativo a livello nazionale ma direi anche a livello internazionale, infatti partecipa anche a studi clinici sulle nuove terapie geniche e anche sull'editing genomico di livello internazionale e questo chiaramente rappresenta un elemento di grande lustro per quella che è l'azienda e la provincia di Ferrara. Un appuntamento importante perché è un appuntamento di confronto, si va oltre ogni ostacolo pensando a quando la patologia è stata diagnosticata, la tassimia major, oltre la minor ovviamente ma quella più problematica è la major e l'evoluzione diciamo così che c'è stata da un punto di vista medico, sanitario e i risultati straordinari che ha portato oggi per la popolazione che ne è affetta. Altri sono in corso e sono francamente direi eccezionali. Ecco oggi si farà proprio il punto anche su questo, ci saranno dei collegamenti internazionali, però le chiediamo il DHT di Kona è un punto di eccellenza, l'azienda ospedaliera universitaria sta investendo assolutamente per tenerlo tale, è arrivato anche il nuovo dirigente, questo significa che ci sarà sempre l'attenzione molto alta su questo punto? Assolutamente sì, sarebbe sciocco di strutturare dei punti di eccellenza e questo centro è un punto di eccellenza e tra l'altro va sottolineato, spesso non è nelle corde giustamente della popolazione perché sono interessati direttamente alla cura, però è un centro che è all'interno del network europeo delle malattie rare, perché è una malattia rara quella di cui stiamo parlando, dell'European Blood, quindi c'è veramente net e quindi sarebbe folle, mi permetto, lo dico a me stessa, fare qualcosa di diverso, è un centro che rimane un saldo riferimento per la provincia, per la regione e per la nazione e quello che possiamo fare è solo andare a potenziarlo e sicuramente non a sminuirlo. Giornata organizzata dall'Alterino Vullo di Ferrara sempre qui all'ospedale di Kona, è sempre una giornata che le famiglie dei pazienti attendono? Una attesa che chiaramente riguarda anche l'amministrazione comunale, un momento importante per la nostra città, un'associazione riconosciuta non solo a livello territoriale ma addirittura a livello nazionale, un'associazione che conta di tanti iscritti su un tema che chiaramente riguarda ahimè tanti cittadini. L'associazione non si risparmia su quello che sono le iniziative e soprattutto su tutto ciò che può facilitare la conoscenza di questa malattia e tutti i rimedi per poter vivere sempre al meglio sia i pazienti che i loro familiari. L'importanza di questo centro? Intanto l'importanza di questa giornata perché sono comunque occasioni di confronto, di riflessione e anche di assunzione di impegni per una malattia che è stata definita malattia rara ormai da diversi anni e che dal 2005 la Regione Emilia Romagna ha strutturato nel suo percorso diagnostico e terapeutico nella rete di ospedali AB e SPOC. Qui siamo nel lab del lab perché Ferrara è effettivamente una guida non soltanto di riferimento per la Regione ma anche a livello nazionale e internazionale ha ricevuto degli importanti riconoscimenti perché da qui si sono cominciate terapie innovative, studi molto importanti per proseguire il contrasto e la cura e soprattutto l'associazione è fondamentale perché affianca le istituzioni, a volte li pungola anche, li spinge a far sempre meglio e attraverso anche l'attività dell'associazione possiamo facilitare quei percorsi che a volte sono anche un po' di smarrimento da parte di coloro che soffrono di questa malattia rara che invece attraverso l'associazione possono avere un punto di riferimento. Ecco lei ha parlato dal 2005 all'interno di questa rete l'Emilia-Romagna tra le prime, forse la pioniera da questo punto di vista però c'è una legge, una legge che attende il sì delle Regioni. L'Emilia-Romagna a che punto è? Noi siamo impegnati su questo fronte, devo dire che a livello nazionale molti Regioni fanno riferimento alla nostra esperienza quindi da questo punto di vista siamo anche quelli che possono in qualche modo indicare una strada però con umiltà proseguiremo nel dare sempre maggiori risposte a questa popolazione che comunque va considerata come tale in quanto sono patologie rare che devono essere assolutamente inserite in un percorso terapeutico avvalzato. Pazienti più consapevoli grazie anche alle associazioni, quindi giornate come queste danno la conferma di quanto siano importanti? Sono assolutissimamente importanti le associazioni dei pazienti perché come l'Altvullo di Ferrara tengono insieme varie sfaccettature, quella di essere pazienti e di essere, lo sanno che hanno una patologia ma anche il fatto di essere consapevoli della loro patologia, questo è il valore aggiunto che hanno dato le associazioni una volta il paziente sapeva di avere una malattia, si confrontava con il medico ma non sapeva esattamente quale poteva essere il suo potenziale per guarire o per poter stare meglio attualmente le associazioni, devo dire, hanno questo, diciamo, aspetto del, si chiama empowerment del paziente cioè essere consapevoli della propria malattia e fare una sorta di alleanza con il proprio medico medico, professionista, che sia quello di base ma anche tutti i professionisti cui lui si confronta in modo tale che non sia così inconscio di quello che avviene e se io so quello che mi stanno facendo sono ovviamente più tranquillo e quindi questo rapporto si è creato nel tempo e bisogna dire proprio grazie soprattutto alle associazioni in questo particolare quella di Ferrara ha fatto strada e ha fatto scuola anche a tantissime altre associazioni a livello nazionale ovviamente che si occupano di talassemia C'è ancora molto da fare però lei sosteniva? Assolutamente sì, c'è molto da fare anche perché lo dicevano prima negli interventi che ci sono stati il fatto che noi predisponiamo anche a livello nazionale normative, chi si occupa della governance in salità predispone e pensa di aver fatto già bene tutto, chi ci può dire se funziona tutto bene è solo il paziente quindi il loro ruolo deve essere anche di collaborazione per migliorare i percorsi che si devono instaurare quindi è sempre di più un lavoro di collaborazione fra tutti e permettere finalmente non al centro il paziente come dire lo guardiamo come una statuina ma il paziente che collabora con tutti i professionisti questo è il valore aggiunto che noi dobbiamo tendere ad arrivare Aridmie e complicanze sui pazienti talassemici questo è uno dei temi affrontati oggi durante questa giornata di studi al tavolo dei relatori il riferimento per i pazienti talassemici per questo tipo di complicanze il professor Matteo Bertini, cardiologo allora professore è una patologia che è abbastanza diffusa questa quella legata ovviamente alle problematiche cardiologiche quali sono le risposte? Allora le aridmie oggigiorno per quel che riguarda le complicanze cardiologiche nel paziente talassemico la fanno da padrone per fortuna una volta lo scompenso cardiaco che era la malattia diciamo più pericolosa è stata non dico debellata ma ridotto molto come incidenza in questi pazienti grazie anche alle nuove terapie come le terapie chelanti per il ferro però il cuore continua a dar segno di sé in questi pazienti attraverso la manifestazione di episodi aritmici queste aritmie che possono compromettere la qualità di vita dei pazienti e a volte quando sono più pericolose anche possono mettere a repentaglio la vita di questi pazienti esistono diversi approcci terapeutici per gestire queste aritmie in particolare possiamo andare dal semplice approccio attraverso dei farmaci attraverso un approccio farmacologico fino a approcci più complessi come quello interventivo attraverso l'ablazione di questo tipo di aritmia attraverso dei sistemi innovativi che ultimamente abbiamo a disposizione ecco lei è un punto di riferimento da anni per questo tipo di pazienti e sicuramente è cambiata negli anni la tipologia e l'intervento questo grazie anche alla ricerca e all'innovazione esatto sono stati fatti passi da gigante soprattutto per quella che è la gestione dell'aritmia più frequente nei pazienti tarasemici che è la fibrillazione atriale e l'ablazione della fibrillazione atriale in questi ultimi anni ha avuto a disposizione tutta una serie di tecnologie innovative che consentono di eseguire la procedura in assoluta sicurezza e anche aumentano l'efficacia della procedura stessa soprattutto garantendo appunto la sicurezza nei pazienti più fragili come possono essere i pazienti tarasemici giusto per chiarire per chi ancora non lo sapesse chiaramente questa è una trasmissione dedicata al tipo di paziente tarasemico però rispetto ad un paziente non tarasemico quale potrebbe essere la problematica rispetto a quello che lei ci sta dicendo? Allora la problematica in generale delle ablazioni presenta il fatto che solitamente queste ablazioni vengono fatte con diverse forme di energia cioè noi bruciamo una piccola parte di tessuto cardiaco di cellule del cuore che elettricamente danno origine a queste aritmie e lo possiamo fare questa diciamo bruciatura con il calore cioè con la radiofrequenza che applichiamo proprio del calore all'interno del cuore per bruciare queste cellule miocardiche oppure con un'estrema temperatura estremamente bassa cioè la crioablazione si dice che ha la stessa efficacia Oggigiorno abbiamo a disposizione una nuova forma di energia che si chiama elettroporazione che non è altro che l'applicazione di un campo elettrico molto forte per pochissimi secondi in queste cellule cardiache che fa sì che la cellula elettricamente diventi inerte cioè non conduca più la sua elettricità e quindi non faccia più quei danni elettrici che faceva prima creando un anche processo di diciamo morte cellulare che è molto più fisiologico si chiama apoptosi rispetto a una bruciatura con il calore o una bruciatura con il freddo Dottor Mattia Algeri pediatra un coematologo questa giornata intitolata oltre ogni ostacolo ha fatto anche il punto e fa il punto sulla terapia genica una nuova frontiera per la cura della talasse miele chiediamo qual è la situazione La situazione attuale è che ci sono una serie di protocolli in fase di attiva sperimentazione che possono effettivamente poi tradursi in un guarigione per i pazienti talassemici eravamo in procinto di attendere sul panorama europeo la possibilità di trattare in forma commerciale pazienti con approcci di terapia genica di tipo additivo con vettori denti virali questo però non si è tradotto in realtà per una decisione della company ma infortunatamente ci sono altri approcci come gli approcci di gene editing in fase avanzata di sperimentazione speriamo nell'arco di qualche anno di poter far sì che siano universalmente disponibili Cerchiamo di spiegare parole un po' più semplici che cosa significa questa terapia per chi ancora non la conosce La terapia genica consiste in un senso generale nel prelevare le cellule staminali del paziente e andarle a modificare geneticamente con tecniche che poi sono differenti da approccio ad approccio per correggere il difetto genetico responsabile della malattia Nella talassemia ad esempio dove le cellule malate sono le cellule del sangue si vanno a correggere le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo quelle che producono le cellule del sangue andando a correggere questo difetto genico e consentendo a questi pazienti di produrre emoglobina e quindi globuli rossi funzionanti con cui andare a ossigenare tutti i tessuti e quindi nel momento in cui questi pazienti sono poi in grado di produrre da soli i loro globuli rossi non hanno più bisogno di essere sottoposti a trasfusioni croniche Lei ha parlato di alcune terapie, una che probabilmente per poter essere sfruttata si deve raggiungere per esempio gli Stati Uniti però lei ha sottolineato che ce ne sono due sulle quali si sta lavorando le chiediamo, dato già una data, però le chiediamo qualche informazione in più Verrà per esempio prodotta al Bambin Gesù, ci si avvale di una produzione all'estero? Come vi state organizzando? La produzione viene fatta in specifici siti selezionati dalle company che in questo momento sono prevalentemente all'estero le cellule vengono prelevate all'ospedale, nel centro di trattamento in questo caso Bambin Gesù, poi ne verranno verosimilmente identificati anche altri nel panorama nazionale le cellule così prelevate vengono inviate al centro di manufacturing dove vengono lavorate e vengono poi reinviate in forma criopreservata quindi congelate e pronte per l'infusione Naturalmente questo nella massima sicurezza? Ovviamente sì Da questo punto di vista i tempi quali saranno? I tempi per l'autorizzazione in missioni commercio non sono prevedibili credo che ci vorranno almeno due anni da adesso per far sì che si evada in una fase successiva cioè dalla fase di sperimentazione alla fase commerciale Professor Marco Libanore, primario del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliere universitaria di Ferrara alla giornata di studi organizzata dall'Alterino Vullo di Ferrara per fare un po' il punto sulla cura per i pazienti talassemici proprio anche alla luce del covid e delle vaccinazioni Diciamo dal punto di vista pratico abbiamo a disposizione soprattutto terapie per la fase precoce della malattia e da qui la necessità di diagnosticare prontamente questo tipo di patologia e questo vuol dire soprattutto nella fase iniziale in cui il soggetto non deve aver manifestato i sintomi da più di 5-7 giorni e questo perché? Perché abbiamo tre antivirali che funzionano soprattutto in questa fase e tre antivirali di cui due per via orale che sono il Molnupiravir e il Paxlovid e poi abbiamo il Remdesivir che invece è somministrabile per via endovenosa quindi tanto più la diagnosi è precoce tanto più abbiamo la possibilità di mettere in funzione questo tipo di terapia Vaccinazione Per quanto riguarda la vaccinazione siamo nella fase come tutti sapete della quarta dose però la novità in senso assoluto dove sta? Che praticamente lunedì prossimo l'AIFA probabilmente licenzierà il nuovo vaccino bivalente che oltre a contenere il ceppo originario di Wuhan avrà anche che cosa? Omicron 1 e quindi consentirà di avere una risposta anticorpale ottimale e più completa nei confronti appunto del virus tenendo conto però che sono in corso anche le sperimentazioni che riguardano che cosa? L'impiego di la variante anche BA4, BA5 e quindi la possibilità di mettere in campo anche un vaccino ulteriormente avanzato che consentirà una risposta ancora più completa Ecco la differenza tra pazienti talassemici e pazienti non affetti da talassemia c'è? Lei ci ha dato questo quadro per questa differenziazione oppure quello che lei ci ha detto vale anche sui pazienti non talassemici? Diciamo che rientrano nel discorso generale del paziente tanto più che il talassemico se fa trattamenti si vaccina evita che cosa? Di non avere la necessità di essere ospedalizzato perché anche l'ospedale in sé diventa un rischio per le sovrinfezioni che si possono avere e sappiamo che soprattutto le complicanze di tipo batterico per il talassemico sono più frequenti in rapporto appunto al fatto che avendo l'assenza della milfa la predisposizione alle infezioni da batteri capsulati è più frequente Dottor Valerio Cecinati, oncoematologo e esperto di talassemia lei ha lavoro in un importante centro al sud Taranto in cura quasi 150 pazienti in prima linea anche per le terapie innovative geniche, è così? Sì è così, un numero alto così importante di pazienti ci impone di dover continuare a lottare a studiare per la ricerca e quindi per poter offrire ai nostri pazienti tutte le possibilità di cura che sono la terapia convenzionale che deve essere comunque fatta al meglio è la cosa più importante cercando di prendere in cura il paziente e non la malattia ma sicuramente avendo sempre un'attenzione per le nuove terapie quindi siamo in contatto con tutti gli altri centri del centro, del sud, del nord Italia che possano garantire delle opportunità terapeutiche ai nostri pazienti Ecco durante questa giornata vanno messe in risalto luci e ombre le chiedo che cosa sta emergendo di importante e per quanto riguarda le criticità è così emersa anche la questione legata alla problematicità con la carenza di sangue in alcune aree dell'Italia ecco chiediamo intanto come invece sta andando nelle sue zone Allora per quanto riguarda le criticità se vogliamo parlare delle terapie nuove, innovative penso che il problema più importante sia l'accesso alle cure abbiamo visto che le terapie sono costose e quindi la possibilità di accedere a queste cure non è per tutti e quindi l'obiettivo soprattutto dell'istituzione ma anche nostro diciamo di stimolo è quello di poter garantire a chi ne ha la possibilità che possa avere le cure per poter migliorare o addirittura risolvere la malattia Per quanto riguarda invece la questione della disponibilità sangue diciamo che siamo in un periodo, abbiamo passato un periodo non facile che è legato soprattutto alla riduzione delle donazioni soprattutto legate all'estate ed è sicuramente un argomento su cui dobbiamo ancora lavorare tanto per riuscire ad avere un'ottimizzazione di questi percorsi quindi garantire sangue ai nostri pazienti che poi comunque costituisce la sopravvivenza per la loro malattia Le luci? Ma le luci sono quelle del fatto che abbiamo la possibilità di essere un gruppo in Italia questo è molto importante, quindi di confrontarci su tutto ciò che va ma soprattutto su tutto ciò che non va di imparare dalla scuola di Ferrara, dalla scuola di Torino, dalla scuola di Napoli da quelle siciliane e quindi crescere ancora di più e sicuramente queste nuove terapie quando ci sarà un accesso per tutti saranno sicuramente una rivoluzione per i nostri pazienti Professore Antonio Piga, pediatra, ematologo, Università di Torino che cosa sta emergendo intanto da questa giornata? Ma che le novità in campo terapeutico per la talassemia finalmente diventano concrete si parla da tanti anni ad esempio di terapia genetica o di terapie che possano diminuire o eliminare le trasfusioni nei pazienti con talassemia oggi siamo su aspetti concreti nel senso che ad esempio c'è un farmaco approvato è quindi disponibile da pochi mesi per i pazienti talassemici che fanno le trasfusioni per diminuire in qualche caso per annullare le trasfusioni ed è un farmaco semplicissimo da fare si chiama lo Spatercept è una iniezione come fosse un'iniezione di insulina che si fa una volta ogni 21 giorni quindi semplicissimo c'è la terapia genetica di cui si parla da 45 anni perché si è iniziato proprio nel mondo nella talassemia con i tentativi di terapia genetica oggi una prima forma di terapia genetica è approvata da pochi giorni negli Stati Uniti era stata approvata in Europa ma poi la casa si è ritirata per ragioni economiche negli Stati Uniti c'è dal 17 agosto 2022 ed è la terapia più cara al mondo che esista ogni trattamento quindi ogni paziente che viene trattato costa 2,8 milioni di dollari però con un rimborso fino all'80% in caso di insuccesso o successo parziale molto interessante Vincenzo De Angelis direttore del Centro Nazionale Sangue una giornata per fare il punto rispetto alla patologia dei talassemici quindi della talassemia questo centro hub di riferimento regionale e lo ricordiamo per i talassemici è fondamentale il ruolo del sangue intanto cerchiamo di spiegare il Centro Nazionale del Sangue rispetto a questa patologia che ruolo ha e quali sono le funzioni? Il Centro Nazionale del Sangue è l'organo di coordinamento del sistema trasfusionale italiano e quindi di fatto effetto a supervisione monitoraggio e programmazione per le attività trasfusionali del paese nel ambito specifico della talassemia il centro è anche la sede del registro nazionale della talassemia un registro che in realtà sta muovendo appena i primi prassi la cui finalità sarebbe proprio quella di avere a giorno ed in linea tutti i dati che si riferiscono ai bisogni non solo trasfusionali ma soprattutto trasfusionali dei pazienti talassemici in giro per il paese e anche qui il registro ha l'ambizione di dover poi mettere insieme realtà regionali diverse che hanno velocità in questo momento diverse Ecco facciamo proprio un focus perché qua ci troviamo in Emilia-Romagna e magari lo stesso tipo di operazione azione che viene attuata non ha lo stesso esito rispetto magari ad un'altra regione dell'Emilia-Romagna quindi questa sorta di macchia di leopardo lei ha detto essere pazienti in questo caso talassemici significa essere tutelati nella donazione del sangue che cos'è che succede esattamente? Ma come ripeto ormai da molto tempo se noi siamo convinti e lo siamo che il sangue sia una risorsa strategica per la cura di moltissime malattie e la telassemia è una di queste allora il dovere della collettività quindi il dovere di ogni cittadino italiano è quello di domandarsi che cosa può fare per contribuire alla salute dei pazienti che hanno meno fortuna di lui e quindi tutti coloro che possono donare sangue dovrebbero farlo sapendo che questo è un loro dovere per garantire il diritto dell'ammalato ad essere trasfuso purtroppo come ha notato lei giustamente la situazione in Italia è a macchia di leopardo ci sono regioni e qui l'Emilia Romagna è certamente tra le prime regioni italiane ad avere un grande numero di donatori una grande organizzazione trasfusionale una grande organizzazione di supporto ai pazienti e il centro di Ferrara ne è sicuramente un esempio questa situazione non è uguale nel paese e non perché manchino le leggi ma perché l'applicazione e la velocità dell'applicazione di queste leggi è assai difforme all'interno del paese quindi l'invito è duplice da un lato quello di ricordare a tutti i cittadini italiani che sono in buona salute che donare sangue è fondamentale per tutti i pazienti che di questo sangue hanno bisogno i talassemici rappresentano senz'altro un esempio ma non sono i soli e dall'altro alle istituzioni alle istituzioni regionali perché le leggi che ci sono vengano costantemente applicate in maniera da rendere efficace il sistema trasfusionale italiano e l'appello che lei ha fatto all'assessore regionale che poi era in sala perché l'assessore Donini è il coordinatore delle regioni dal punto di vista della sanità e quindi certamente è una persona che può aiutare moltissimo grazie proprio alla sua capacità di stimolo alla sua capacità di intervento può aiutare moltissimo a realizzare quelli che noi chiamiamo gli aspetti pattizi tra lo Stato e le regioni che significa ce lo traduca un attimo che significa che tutti dalla vita d'Italia fino all'isola di Pantelleria devono applicare nella stessa maniera e con la stessa efficacia le norme che regolano il servizio trasfusionale dello Stato questa giornata sta facendo il punto su diversi aspetti compreso l'importanza del sangue per un paziente talassemico il sangue per un paziente talassemico è fondamentale per sopravvivere sappiamo tutti che un paziente talassemico necessita di trasfusione di sangue ogni periodo in maniera cospicua e non può mancare perché nel momento in cui c'è bisogno deve essere disponibile la sacca di sangue per fortuna qui a Ferrari in Emilia Romagna soprattutto siamo riusciti a garantire sempre comunque questo tipo di trasfusioni e anche pazienti talassemici di altre regioni vengono qui in Emilia Romagna perché qui trovano la disponibilità di sangue che non troverebbero nelle loro regioni ecco questo è un aspetto che è uscito anche dal direttore del centro nazionale appunto del sangue questa situazione a macchia di leopardo dove in Emilia Romagna e in altre regioni c'è l'eccellenza e in altre regioni per un paziente talassemico non è così facile riuscire ad avere il sangue la sacca di sangue è così vitale sì purtroppo sì non in tutta Italia la raccolta del sangue è così sviluppato purtroppo ci sono molte regioni nel quale il sangue manca per far fronte ai bisogni di quella regione ed ecco il perché ci sono le compensazioni regionali cioè regioni più virtuose come l'Emilia Romagna la Lombardia e il Veneto aiutano altre regioni meno virtuose per sopperire a questa mancanza è purtroppo un problema culturale certe volte ma molto di più un problema organizzativo nel senso che in Emilia Romagna da decenni ci si è organizzati facendo leva soprattutto sulle associazioni come Avis come Fidas per la raccolta del sangue e affidando a loro questo tipo di obiettivo cosa che avviene quotidianamente soprattutto perché abbiamo una distribuzione capillare dei nostri punti di raccolta tale che le persone sanno dove siamo e sanno quando possono venire per donare sangue ricordiamo un appello basta poco basta poco basta soltanto essere convinti prima cosa seconda cosa recarsi presso un punto di raccolta dell'Avis dire che si vuole donare e lì si viene accompagnati nella donazione del sangue e soprattutto vengono date tutte le informazioni che servono per fare una donazione consapevole e senza rischi questa è la cosa più importante l'impegno delle associazioni l'impegno dei medici l'impegno dei donatori che si regano a donare c'è il problema è che si è invertito una tendenza che ha visto per anni la crescita delle donazioni adesso si è arrivato a un momento quasi di non lo so di maturazione di questo processo per cui e poi la pandemia che ha portato a una a una una crisi chiamiamola così anche quest'anno si riuscirà a combattere a risolvere in parte ma con grande sofferenza ora una volta che si esce da questa situazione bisognerà che si inventi che si trovi per un discorso di lungo periodo la capacità di rivedere alcuni meccanismi va affrontata la come devo dire dal punto di vista culturale dal punto di vista di un'analisi profonda di per quale motivo noi non riusciamo più ad allargare ad essere attrattivi per quello che riguarda le nuove generazioni per esempio e io spero che a partire dall'autunno adesso che riprendiamo tutte le attività si possa trovare un tavolo con le regioni che appunto non bisogna reinventare le leggi riscrivere le leggi ma vedere quello che si può mettere in campo in sinergia per far sì che poi dopo anche da un punto di vista organizzativo per le cose vostre uno possa essere sicuro in tutta Italia e non solo a Ferrara oppure in qualche altro posto privilegiato da questo punto di vista Daniele Guidetti Presidente Fidas Renazzo il comune di Cento sempre provincia di Ferrara intanto parliamo un po' di Fidas sì Fidas è una realtà che vale un quarto delle donazioni totali in Italia chiaramente io rappresento un'associazione piccolina perché sono solamente 750 i donatori presenti iscritti a Renazzo donatori che però sono anche molto favorevoli alla donazione in afferesi piastrine e plasma sia presso il sit di Ferrara che quello di Bologna per cui facciamo donazione sangue intero piastrine e plasma una giornata come questa organizzata dall'associazione Altrino ovulo di Ferrara si intitola oltre ogni ostacolo però di certo è che è fondamentale per loro il sangue che viene raccolto anche da voi certamente anzi io ringrazio l'associazione per avermi invitato perché è anche bello per noi tra virgolette fornitori del sangue capire le dinamiche di poi qual è lo sviluppo e l'utilizzo del sangue stesso che i donatori donano con questo gesto ammirevole quindi è importante condividere lo scopo finale per cui tutti noi poniamo il braccio ricordiamo cosa serve per diventare donatori di sangue sicuramente essere maggiorenni con un peso superiore ai 50 kg entro i 70 anni quindi si può donare dai 18 ai 70 buona salute e non abbiate paura che l'ago non fa male quanto sembra però diciamo che è un gesto fondamentale perché il sangue non si fabbrica il sangue non si fabbrica e soprattutto il dottor De Angelis ha anche aperto una bella riflessione sul fatto che così come c'è il diritto alla salute stabilito per la Costituzione allora qualcuno il sangue dovrà pur donarlo perché se non diventa un dovere poco ci manca ora qualche istante di pubblicità restate con noi ritorniamo ancora alla Sant'Anna di Ferrara a Con ritorniamo questa giornata di studi oltre ogni ostacolo organizzata dall'alterino Vullo di Ferrara associazione lotta alla talassemia un momento insieme alle istituzioni ai clinici alla ricerca alle compagni ai donatori di sangue e anche agli stessi familiari dei pazienti per così arrivare a tracciare a mettere in evidenza le continue e migliori cure le prese in carico le migliori attenzioni dei percorsi specialistici e ovviamente per migliorare il più possibile la qualità di vita dei pazienti affetti da talassemia professoressa Bruna Zani psicologa e da anni in approfondimento e in studio sulla popolazione dei talassemici una popolazione che è emersa con un percentuale importante soprattutto in provincia di Ferrara dicevamo diversi studi diciamo che possiamo fare un po' un bilancio dopo questi anni di studio che cosa è emerso sì allora intanto grazie per l'invito per essere per questa intervista noi siamo partiti su indicazione su proposta del professor Vullo di Rino Vullo che venne appunto a cercarmi all'università di Bologna per chiedermi di fare una ricerca come dire scientificamente metodologicamente fondata sui suoi ragazzi quello che lui chiamava i suoi ragazzi cioè gli adolescenti talassemici parliamo del 94 94 prima ricerca con gli adolescenti età media 17 anni e con un gruppo di controllo di ragazzi ferraresi quindi della stessa età e dello stesso contesto venne fuori la conferma di quello che Vullo in effetti come dire si auspicava che ci fosse cioè che gli adolescenti con talassemia avevano un funzionamento psicosociale perché è questo che abbiamo analizzato ovviamente non gli aspetti come dire clinici medici ma la loro qualità della vita se non uguale a quella dei coetani in alcuni punti addirittura migliore quindi con una capacità di reagire alle situazioni quelle che si chiamano in gergo le strategie di coping addirittura più positive di quelle dei coetani la cosa sta pubblicata nella rivista scientifica fece un certo scalpore perché c'è un po' la letteratura tradizionale diciamo che sottolinea sempre gli aspetti negativi della malattia cronica noi invece avevamo un po' rovesciato questo diciamo contro stereotipo la ricerca venne poi riproposta nel 2010 quindi parliamo di 16 anni dopo con la stessa popolazione di ragazzi del 94 che nel frattempo erano cresciuti quindi età media 35 anni 35-36 anni e troviamo le stesse conferme questo studio questo del 2010 è stato pubblicato in questo testo come vincere la sfida della talassemia resilienza e qualità di vita la parola resilienza forse la prima volta sì la parola resilienza infatti il concetto di resilienza l'abbiamo utilizzato qui poi questo è stato fatto insieme al dottor De Santis allora direttore Giuseppe Masera che è il grande esperto Umberto Barbieri che allora era il presidente di Alte l'associazione Alta e una studentessa Deborah Basile e il concetto di resilienza ci aiutò proprio a esprimere al meglio quello che effettivamente la popolazione adulta giovani adulti come si dice i trentenni stavano stavano vivendo stavano facendo quindi la capacità anche qui di reagire in maniera positiva e proattiva alla situazione con un buon funzionamento ora c'è un terzo studio terzo studio siamo nel 2022 con la stessa popolazione di talassemici credo che questa sia una cosa se non unica nel suo genere abbastanza unica e comunque originale per cui tra febbraio e aprile abbiamo rifatto la ricerca con lo stesso questionario popolazione età media 52 anni quindi i talassemici sono cresciuti sono diventati adulti adulti maturi hanno fatto famiglia hanno fatto figli una prospettiva di vita che quando si è partita 30 anni fa era inimmaginabile cosa abbiamo anche qui a confronto con un gruppo di controllo di coetani quindi cinquantenni ferraresi stesso contesto diciamo mentre inizialmente negli altri studi le differenze fra i due gruppi si notavano di più in quest'ultima ricerca si notano di meno nel senso che non ci sono differenze noi diciamo statisticamente significative negli aspetti che abbiamo analizzato che riguardano sempre il funzionamento psicosociale quindi le relazioni interpersonali le strategie per affrontare strategie di coping per affrontare le situazioni problematiche la situazione relativa al sé corporeo che è uno dei punti diciamo di delicatezza ecco di criticità delle persone con talassemia gli stati emotivi il futuro quindi a 50 anni ci si immagina un futuro c'è un futuro sì c'è un futuro in cui dichiarano di voler raggiungere degli obiettivi per esempio alcuni la pensione giustamente ma come anche il gruppo di controllo quindi in questo senso dicevo le differenze non sono più significative ma anche questo è un dato interessante perché ci dice che questa popolazione di persone con talassemia ha un buon funzionamento psicosociale è chiaro che ci sono dei problemi non è che sia tutto rosa e fiori ci sono le preoccupazioni ma chi non ha preoccupazioni oggi abbiamo aggiunto un pezzo in più diverso in questa ricerca che è vivere con la pandemia perché gli ultimi due anni come dire sono stati anni critici ma sono stati anni critici per tutti quindi in questo senso anche qui non abbiamo notato delle differenze rispetto alla percezione che le persone ovviamente parliamo di come dire di variabili psicologiche quindi è la percezione che le persone hanno rispetto alle loro condizioni di salute non sono ottimali ma anche il gruppo di controllo si trova nella stessa situazione quindi c'è come dire una mi viene da dire quasi una normalizzazione ecco tra il gruppo delle persone con talassemia e il gruppo cosiddetto di controllo Giulia Bullo moglie di Rino Bullo Rino Bullo che è il nome che sta portando questa associazione da quando è nata l'associazione lotta non da quando è nata ma da quando mio marito è mancato si è data il nome di mio marito per portare avanti il suo nome comprendendo che diversamente sarebbe stato presto dimenticato parliamo allora di questa intuizione che ha avuto suo marito arrivato a Ferrara con la situazione dei pazienti tarassemici ho visto che i pazienti hanno fatto un video con delle diapositive che rappresenta la storia del centro della talassemia iniziato dal formidabile professor Ortolani devo dire negli anni 40 50 è arrivato però che in qualche modo i pazienti stavano ricoverati passivamente per una settimana in reparto con la loro famiglia e con le loro madri fortunatamente perché il professor Ortolani aveva aperto molto precocemente il reparto alle mamme e tuttavia ha trovato questi pazienti che stavano ricoverati lungo tempo con le loro famiglie quindi modificando completamente la vita familiare loro e dei loro parenti e quindi ha pensato che era fondamentale trovare la collaborazione dei pazienti e delle loro famiglie per cambiare sistema che non era facile perché le famiglie preferivano forse un sistema assistenziale in cui trovavano un ricovero prolungato mentre lui voleva portare i pazienti a una vita fra virgolette normale e quindi è passato dai sei giorni di ricovero al day hospital che sarebbe un giorno in cui cerca di concentrare tutte le operazioni necessarie alla trasfusione che è fondamentale per i pazienti per sopravvivere naturalmente come abbiamo sentito da tutti i vari rappresentanti delle associazioni di donatori che sono una fondamentale ragione di vita per i pazienti tuttora questa è naturalmente una storia che è presa come punto di riferimento in tutta Italia abbiamo sentito questa mattina diversi centri che hanno portato l'esperienza ferrarese in tutte le parti del nostro paese è una bella un bel bagaglio culturale e questo fa sì anche che questa associazione però resti sempre in prima linea per guardare avanti e per dare tutela ai pazienti e alle famiglie dei pazienti è così mi sono molto lieta che questo centro che ripeto mio marito ha tentato di innovare quando è arrivato a Ferrara nel 72 e ci è riuscito perché adesso come sappiamo il presidente dell'associazione iperattivo energetico e formidabile Valentino Orlandi è diventato nonno che era il suo sogno un tempo i pazienti avevano una sopravvivenza molto breve purtroppo e quindi mio marito ha avuto la fortuna di arrivare in un momento molto di spinta e certamente l'ha colta e si è dato da fare per cercare questa collaborazione di tutti gli specialisti necessari di tutti i colleghi di tutte le istituzioni per far sì che il paziente con talassemia raggiungesse una vita una qualità di vita se possibile normale Marco Bianchi associazione Alterino Vullo di Ferrara l'associazione che ha organizzato questa giornata una giornata che è attesa dai pazienti dei familiari dei pazienti talassemici dagli stessi pazienti perché è una giornata che spiega le nuove frontiere della ricerca scientifica delle cure e della diagnostica però oggi raccontiamo anche una storia una storia che parte da un contatto che vi è arrivato tramite internet e che arriva proprio ad un collegamento che è stato fatto poco fa con il professor Lorenz Falkner che è di questa associazione Cure to Children è un trapiantologo e noi adesso raccontiamo questa storia che parte da Ferrara e spiega che non si guarda solo nel proprio orticello ma si va oltre qual è la storia Marco? La storia è che mi ha contattato Valentino Orlandi il presidente perché aveva ricevuto un messaggio via internet appunto da un mediatore culturale di Ferrara che si chiama Osama Murshed che parla l'arabo e aveva ricevuto una richiesta dall'Iraq dal padre di una famiglia irachena questo padre era molto preoccupato perché aveva un bambino Mohammed di due anni e mezzo affetto da talassemia e quindi il padre si era informato e aveva capito che la talassemia in Iraq poteva essere un problema molto molto drammatico perché non ci sono le cure non c'è il sangue e quindi chiedeva se l'associazione di Ferrara poteva aiutarlo a fare un trapianto in Italia perché il bambino venisse curato definitivamente noi in passato avevamo aiutato altre persone dall'estero a venire a fare delle indagini qui a Ferrara all'ospedale con dei ricoveri diciamo di tipo umanitario però era una cosa molto più semplice perché erano comunque ospitati nella nostra struttura facevano delle cure di tipo più tradizionale degli esami invece in questo caso dovevamo affrontare un trapianto che in Italia comunque è molto costoso per una persona che non rientra nel servizio sanitario nazionale quindi avremmo dovuto chiedere alla regione di sborsare una cifra enorme per questo bambino io a un certo punto mi sono ricordato che circa 20 anni fa a un congresso della federazione internazionale a Cipro avevo sentito l'intervento di questo Lorenz Faulkner che è questo trapiantologo di Firenze che ha un cognome americano perché suo padre è americano e praticamente va nei paesi sottosviluppati oppure in via di sviluppo a affiancare dei team di medici per creare dei centri di trapianto in modo che siano poi i medici dei vari paesi a occuparsi delle procedure e così è stato quindi l'abbiamo contattato lui si è subito reso disponibile con questa sua associazione Cure to Children e hanno portato prima gli abbiamo fatto avere tutta diciamo la documentazione che serviva quindi la compatibilità con la sorella perché la sorella è la donatrice del midollo poi hanno contattato un centro che lui stava aiutando a impiantare ad Abu Dhabi ad Abu Dhabi hanno dato la disponibilità a curare a fare questa procedura e in aprile di quest'anno hanno fatto l'intervento il bambino adesso Mohammed sta bene non pare aver avuto nessun tipo di problema e quindi abbiamo raccontato questa storia perché ci sembrava meritoria l'attività di questa associazione Cure to Children che va nei vari paesi soprattutto in India in Pakistan però adesso appunto anche in Iraq ma anche in paesi dell'Africa a impiantare questi centri perché la talassemia è un problema italiano ma è un problema soprattutto mondiale è un problema aspetto a tutti il buono in Pakistan che